Onore ai caduti! Questa mattina, presso il cimitero urbano, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei caduti della patria. Alla presenza delle massime autorità, civili e militari, dopo la celebrazione religiosa svoltasi alla chiesa di San Francesco di via Cappuccini, il corteo dei presenti si è recato al cimitero cittadino per la deposizione della corona dall'oro. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Rinnoviamo quella che è ormai non solo una tradizione ma un dovere, onorare i caduti. Oggi è di fatto un giorno di preparazione al 4 novembre. Questa è una prima delle cerimonie che normalmente si svolgono in questo periodo dell'anno per ricordare i caduti di tutte le guerre. C'è un'enfasi particolare su quelli della prima guerra mondiale ma in realtà il ricordo è per tutti. Credo che sia un dovere dell'amministrazione esserci, un dovere come cittadini ricordare chi ha dato la vita per il nostro paese e proprio in un momento di crisi come questa unirci nel ricordo di quanti così giovani hanno dato la loro vita per noi. Ricordare questo e andare avanti ad affrontare i tempi certo incerti che sono di fronte a noi. Grazie. Grazie.